Ridurre al minimo il divario digitale, garantire una copertura completa del territorio è la sfida del portare la fibra ottica nei piccoli comuni del Levante. Un sogno, una necessità soprattutto, oggi in fortissimo ritardo. A luglio hanno finito le società in subappalto da parte di Open Fiber, hanno finito i lavori di cablaggio e aspettiamo con ansia che si attivi il servizio, anche perché siamo anni in ritardo. Stiamo parlando di un progetto che è stato finanziato dallo Stato nel 2016. Il sindaco di Mezzanego ha deciso in questi giorni di smuovere le acque, ha partecipato ad una riunione in Anci, a Genova, ha scritto ad Open Fiber per avere un quadro preciso della situazione e ha sollecitato il Ministero dell'Infrastrutture. Praticamente hanno steso la fibra sulla dorsale, sulla statale, poi sulle varie strade comunali del Fondo Valle, provocando anche alcuni disagi perché ci hanno interrotto l'illuminazione pubblica. Una volta siamo stati un mese senza illuminazione che non si riusciva a trovare il guasto, poi era stato provocato da loro e i subappaltatori non ci avevano detto niente, per cui è stato anche un disagio e pertanto si vorrebbe vedere anche un risultato adesso. Il tema è caldo se pensiamo all'introterra del Levante, alle prese con problemi di linea e di internet debole. C'è chi lavora con la rete, come agriturismi o strutture ricettive, senza dimenticare lo smart working o la possibilità di frequentare lezioni online. La connettività in generale oggi è un bene primario. Anche per lo stesso comune, spesso quando dobbiamo caricare dei bandi, abbiamo difficoltà perché la connessione magari non è buona, per cui sarebbe un grande passo in avanti che porterebbe un ulteriore vantaggio per il nostro territorio. Pertanto cercheremo tutti insieme di spronare, di vigilare che sia finalmente attuato questo progetto che comunque alle tasche dei contribuenti è costato circa sul territorio nazionale 12 miliardi di euro.